Buongiorno a tutti, ben arrivati a questo webinar dal titolo Breakthrough Innovation CRT, focus sul Veneto, quindi prospettive attuali in epoca Covid-19 e io introduco subito dicendo quali sono i partecipanti, abbiamo Paolo Guzzanato da direzione scientifica motore sanità, uso termine angosassone, nome e cognome perché faccio sempre confusione tra dot e prof, quindi così in qualche modo mi evito le confusioni Angelo Andrini, emmatologo dell'Unità Operativa Complessa di Emmatologie e Centro di Trapianti di Milano di Osso di Verona, Silvia Cavallari, cittadinanza attiva, Luciano Flor che si sta collegando, direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova, Alessandro Lomeo, direttore miglioramento qualità di ampliamento di legge regionale 2002 di Verona, Giovanni Pavesi, direttore generale dell'USL 8 Berica Vicenza, Marco Luggeri, direttore dell'Unità Operativa Ematologica dell'ospedale San Borto di Vicenza, USL 8 Berica, Livio Trentin, professore associato confermato di malattia del sangue universitaria di studi di Padova e Francesca Venturini, direttore della farmacia dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova. Le conclusioni e naturalmente gli interventi verranno fatte da Gian Pietro Semenzato che è direttore della divisione di ematologia dell'azienda universitaria ospedaliera universitaria di Padova, nonché coordinatore tecnico scientifico della rete ematologica Veneta. Claudio, scusami Claudio, mi scrive Ruggeri che non ha il link, se possiamo per favore Carlo mandarglielo rapidamente? Lo mandiamo subito. Modela Daniela Moruso, giornalista scientifico di Telenorma, nonché giornalista scientifico di molti quotidiani italiani e io do subito la parola poi per l'introduzione a Paolo Guzzonato, voglio solo ringraziare tutti i presenti, molti sono persone con cui abbiamo già fatto numerosi eventi, quindi ci conosciamo, quindi diciamo che rivedo molto volentieri molti di voi con cui abbiamo costruito anche dei percorsi, tra l'altro anche alcuni percorsi per quanto riguarda le CAR-T. Oggi potremmo dire dove eravamo rimasti, eravamo rimasti quattro anni fa, parlamo di CAR-T per la prima volta alla Summer School a Gaglio, nell'Ottipiano d'Osiago, con una certa fatica le CAR-T poi erano decollate e poi improvvisamente è arrivato il Covid-19, tutto si è praticamente interrotto in buona parte d'Italia per due motivi fondamentali, uno è il motivo legato alla logistica perché le CAR-T sono ingegnerizzate al di fuori del territorio italiano, l'altro è il motivo delle terapie intensive, per disposizione a livello nazionale nonché per disposizione a varie regioni le terapie intensive sono state utilizzate per affrontare l'epidemia Covid e voi sapete che è buona norma quando si effettua una terapia con CAR-T aveva a disposizione un letto di terapia intensiva per quanto riguarda l'effetto citochinico che ne può derivare. Effetto citochinico che non abbiamo affrontato per le CAR-T ma io come tutti voi, io gestisco due ospedali in Lombardia l'abbiamo affrontato invece per il Covid-19 che una parte dei nostri morti in terapia intensiva proprio che è stato dovuto ad la razione eccessiva infiammatoria che si può osservare qualche volta nelle CAR-T e proprio alcuni farmaci che noi che si utilizzano per la tempesta citochinica nelle CAR-T come voi sapete meglio di me noi l'abbiamo utilizzata nella cura del Covid-19 cito tocilizumab e cito naturalmente i cortisonici e così via. Mi fermo qua, ringrazio intanto Luciano Flor che è arrivato e anche Giovanni Pavesi con il dottor Flor abbiamo giusto condiviso stiamo aspettando le famose domande Luciano sul blockchain che non sono ancora arrivate su un'esperienza che vogliamo condividere proprio tra l'ospedale di Pala e l'ospedale che dirigo l'ospedale a Como e do subito la parola a Paolo Guzzonato per l'introduzione e ancora grazie di essere qui perché è un onore avervi di nuovo con noi per andare a rivedere qual è la situazione delle CAR-T nell'era post Covid-19 in Italia. Naturalmente la parola la darà Daniela Moruso come moderatore giornalista scientifico io mi taccio quindi Daniela a te per quello che vuoi dire per parlare e poi passare la parola per l'introduzione a Paolo Guzzonato. A te Daniele. Il microfono non è acceso. Accendi il microfono. Pardon chiedo scusa e ringrazio subito il direttore scientifico di Motore Sanità Claudio Zanone saluto tutti buongiorno a tutti gli amici collegati anche su Facebook ai redattori agli ematologi della rete ematologica del Veneto sì perché proprio dal Veneto parte il ciclo di web conference dedicate alla Breakthrough Therapy CAR-T di Officina di Motore Sanità. Una serie di incontri nelle regioni protagoniste di questa importante attività scientifica grazie al sostegno di Gilead Scientific per poter fare il punto sulla ripartenza in Italia delle iniziative legate alla terapia più avanzata in oncoematologia la metodica che consentirà di mettere a disposizione di persone adulte con linfoma diffuso a grandi cellule e di bambini con diagnosi di leucemia linfoblastica acuta quindi di pazienti con un'aspettativa di vita estremamente ridotta. Cure risolutive attraverso una procedura one shot therapy. Nel futuro le patologie che potranno essere curate con questa metodica sono destinate anche ad ampliarsi naturalmente come ben sappiamo perché le procedure CAR-T come ci spiegheranno tra poco in particolare i professori Marco Ruggeri, Angelo Andreini, Giampiero Semenzato, Livio Trentin in definitiva hanno lo scopo di inserire sui linfociti T di un singolo paziente un recettore chimerico specifico per un tumore per fare in modo che le cellule competenti per l'immunità i linfociti stessi riconoscano le cellule neoplastiche e le distruggano. Si apre quindi uno scenario completamente nuovo per pazienti refrattari alle terapie oncologiche oggi in uso che salverà molte vite ma che richiede una messa a punto organizzativa e assistenziale di grande complessità. L'epidemia Covid-19 nella prima fase ha fermato ogni cosa. Covid-19 ha determinato in molte regioni una battuta d'arresto ma proprio in Veneto a maggio appena rientrata in fase 2 a Vicenza è stato trattato il primo paziente. L'equip del dottor Marco Ruggeri è ripartita con grandissimo slancio e prima di sentirlo però vorrei salutare Paolo Guzzonato perché insieme modereremo la discussione di oggi e possiamo quindi con lui iniziare subito a introdurre lo scenario e vedere quali sono le questioni aperte. Benissimo grazie Daniele. Carlo se puoi proiettare la prima diapositiva molto semplice partire dal titolo breakthrough innovation che cosa si intende? Si intende una proprio nella definizione del termine un'innovazione così rivoluzionaria da fare in modo che il sistema venga spinto ad un livello nuovo ad un livello successivo è un'innovazione che apre l'azienda a scenari e cambia il modo con cui le persone interagiscono con un mondo che sta cambiando. L'innovazione portata da Carti non può che essere intesa in questo senso e rappresenta sicuramente uno dei traguardi medici più importanti del nuovo secolo nella battaglia contro i tumori che ci aprirà ancora grandi orizzonti futuri ma forse è il momento di dire ok parlarne però non basta più servono infatti modelli organizzativi concreti da applicare subito in modo tale da essere pronti per il futuro facendo tesoro delle buone pratiche messe in atto da ogni singola regione da ogni singolo centro in un'esperienza che dal punto di vista organizzativa è sicuramente nuova e molto impattante. L'idea un pochino è quella appunto di condividere le soluzioni adottate per risolvere problemi che non sono solo clinici ma sono molto organizzativi ed amministrativi e in modo tale da consentire non solo un utilizzo appropriato ma rapido con una programmazione di risorse che sia coerente anche con la richiesta di cure. Questa potremmo definirlo le prime esperienze CAR-T che il dottor Ruggeri sta facendo in questa regione un laboratorio da cui apprendere l'arrivo di prossime importanti innovazioni rivoluzionarie e quindi pensiamo sia giusto porre sul tavolo alcune domande su cui discutere come diceva Claudio Zanon visto che in questo frattempo c'è stata la pandemia che ha un pochino bloccato i processi ma allora ci chiediamo aderenza ai trattamenti regionali programmati, appropriatezza degli invii e dei reclutamenti ai centri hub sono state rispettate? La capacità di selezione di arruolamento e trattamento come si è organizzata all'interno di una rete molto ben strutturata come quella del Veneto e il Covid come ha impattato in questa fase? Il team working multidisciplinare funziona? Ha funzionato? C'è qualcosa ancora da implementare? Per quanto riguarda la parte amministrativa potremmo dire ci sono ancora tantissime questioni aperte, la prima fra tutti condivisa un po' a livello nazionale è quella di un DRG che deve essere concordato tra le regioni, in questo momento a livello nazionale scelte ancora non ne sono state fatte ma è urgente farne e noi questa la porteremo come istanza in tutte le regioni a livello nazionale nell'evento di chiusura. La gestione del pain result è stata corretta, viene tracciato in maniera efficace il flusso, i centri privati accreditati, questo riguarda molto meno certamente la regione Veneto ma riguarderà altre regioni importanti che con lei sono interconnesse come ad esempio la Lombardia e l'accesso al fondo per i farmaci innovativi sono una criticità, è stato affrontato già questo argomento, ci sono già stati dei primi approcci e poi bisogna pensare che Covid sicuramente ha influenzato moltissimo perché la prima cosa sono i trasporti, qui si parla di cellule che si trasformano poi in farmaci e quindi con ad esempio la necessità di invio negli Stati Uniti delle cellule da ingegnerizzare con il blocco che c'è stato con Covid cosa è successo e questo suggerisce qualche cambiamento ad esempio una partnership tra le aziende private e le cell factory regionali, ci sono accordi sulla mobilità sanitaria, la programmazione regionale sulla gestione dei budget ha dato dei finanziamenti ad hoc alle aziende, vi sono state politiche volte a garantire la sostenibilità e qui torniamo con il ragionamento della partnership tra aziende private e cell factory regionali e poi un compito che noi riteniamo molto importante non solo delle reti regionali ma anche di una rete nazionale che dovrebbe collegare le reti che è quello della comunicazione, la comunicazione appropriata, la comunicazione non solo per gli esperti ma anche per i pazienti per non creare farsi aspettative, la rete se ne sta facendo carico, la conoscenza sul pubblico è guidata da criteri di appropriatezza e comunicazione corretta per evitare anche un sovraccarico dei centri, c'è un PDTA, si sta pensando ad organizzare un PDTA o un percorso condiviso? Direi che questi sono molti molte domande, molti temi sui quali è giusto discutere. Grazie, grazie Paolo. Direi che Paolo Guzzonato ci ha dettato un'agenda davvero molto precisa e ha fissato tutti i paletti ma ora passiamo ai fatti perché come ha detto Paolo parlarne non basta e allora insieme a Marco Ruggeri direttore dell'ematologia dell'ospedale San Mortolo di Vicenza innanzitutto vorremmo ripercorrere la straordinaria ripartenza a Cartico nel primo trattamento in un paziente di 68 anni affetto da linfoma, refrattario a quattro linee di terapia che è stato dimesso il 27 maggio a 15 giorni dall'infusione dei linfociti ingegnerizzati e amplificati ma dottor Ruggeri a 48 giorni dalle dimissioni il paziente sta bene? Buongiorno a tutti, prima di rispondere a questa domanda molto competente e precisa volevo ringraziare Motore Sanità, dottor Zannone, Paolo Guzzonato per averci coinvolto in questo interessantissimo focus che fra l'altro è assolutamente tempestivo considerato le difficoltà che abbiamo dovuto superare per proseguire un programma il progetto Carti che ricordo a Vicenza grazie all'interessamento del direttore dottor Pavesi era partito a gennaio 2019 quindi questo dà l'idea dei tempi necessari per mettere in piedi una procedura così complessa. Saluto anche molto con affetto tutti i miei colleghi ematologi che sono collegati, con cui abbiamo condiviso veramente tre mesi molto difficili la sanità del vento grazie anche agli interventi dei politici ma sicuramente grazie anche alla competenza degli ematologi per quanto riguarda il nostro campo ha sicuramente riuscito a rispondere a una sfida veramente importante di cui stiamo tuttora portando avanti le difficoltà. Il progetto Carti partiamo appunto dalla fine, dal successo che abbiamo ottenuto perché giusto appunto la domanda è cosa abbiamo fatto. Attualmente sono due pazienti che abbiamo trattato con i Carti, il paziente che ricordava il giornalista Moruso è stato dimesso da tre settimane, un secondo paziente è stato infuso e trattato e dimesso la settimana scorsa quindi siamo riusciti a portare a termine i due progetti che avevamo inizialmente messo in atto. Attualmente entrambi i soggetti, appunto uno di 68 anni, un altro di 69 anni, uno della provincia qui dell'Alto Vicentino, un altro della provincia di Chioggia sono in follow up ambulatoriale, stanno bene, entrambi sono soggetti che hanno raccolto le cellule in epoca pre-covid, abbiamo dovuto quindi dopo ne parleremo portare avanti una procedura bridge per portarli a quando abbiamo potuto infonderli e attualmente le PET post terapia indicano una remissione completa. Eventualmente se io ho anche lanciato una diapositiva, più tardi potremo vederla, vi darò anche dei dati clinici. Quindi diciamo attualmente abbiamo due pazienti infusi fatti in follow up e attualmente sono tre pazienti in fase di selezione. Naturalmente questa esperienza rappresenta l'avanguardia in una regione che ha una rete di grandissima efficienza coordinata dal direttore Gian Pietro Semenzato. Ecco, il professor Semenzato, la regione di Veneto quindi dà una prima risposta in Italia ed è una regione che esce veramente da vincitrice dopo l'esperienza covid. Ecco, in questa transizione tra la fase drammatica covid e questa nuova fase, sta indicando a tutti che bisogna ripartire a testa bassa e passare i fatti, come ha detto Guzzonato. Intanto voglio solo dire che siamo 93 partecipanti su Zoom e 140 su Facebook, quindi siamo 230 persone che ci stanno seguendo, quindi vuol dire che il tema, seppure parlando sul Focus Veneto, il tema che Arti continua a interessare e sono insalite in crescita. Grazie a me, professore. Va bene, innanzitutto anch'io voglio salutare tutti e ringraziare Motore Sanità per questa opportunità di confronto e per quanto attiene cosa la rete ematologica sta facendo, io ricordo solo che siamo partiti diciamo così ancora all'inizio del 2019 con una riunione proprio ad hoc del gruppo dei farmaci innovativi o ematologici e ovviamente la rete in cui abbiamo prospettato quelle che potevano essere le possibilità di applicazione di questa metodologia a livello del vento e allora diciamo così abbiamo convenuto che la divisione di ematologia più avanti rispetto alla metodologia per poter applicare queste terapie era in effetti Vicenza, abbiamo avuto anche un incontro a cui ha partecipato il dottor Mantovani che ha diciamo così sollecitato anche gli altri responsabili delle unità operative e quindi Verona, Padova, Treviso, Mestre di attrezzarsi perché come è stato detto in precedenza gli aspetti organizzativi sono altrettanto e non so se addirittura più complessi di quelli medici e credo che l'esperienza Covid che praticamente ha bloccato per tre mesi molte delle attività sanitarie ne sia stata la riprova perché è chiaro che qui stiamo parlando di cellule che partono dall'Italia vanno negli Stati Uniti, ritornano dopo tre settimane e quindi questo implica tutta una gestione organizzativa non di poco conto, questo è il primo punto. Il secondo punto ma anche questo è stato sottolineato la necessità dei posti in rianimazione, voi sapete che bisogna sempre avere un posto riservato in rianimazione e avere un posto riservato in rianimazione in epoca Covid era praticamente impossibile. L'altro punto anche che volevo sottolineare, ne ha accennato Zanon nella sua introduzione cioè il concetto dei farmaci che noi utilizziamo, il tocilizumab. Ecco, il tocilizumab è stato utilizzato per i pazienti Covid, che viene utilizzato per la tempesta citochinica nel trattamento con le CAR-T ed è chiaro che chi ha in mente e ha in programmazione della terapia con CAR-T è chiaro che deve anche accertarsi della disponibilità di questo farmaco. Dicevo che c'è molta aspettativa nei pazienti, abbiamo in mente di creare come rete ematologica un PDTA, però è chiaro che prima si devono assestare le cose, devo dire che il dottor Ruggeri ha fatto circolare fra gli ematologi della regione una specie di data sheet in cui sono richieste, diciamo così, tutte le necessarie informazioni che poi il centro ovviamente deve validare per la possibilità di arruolare un paziente con queste cellule che alla fine diventano un farmaco. Queste cellule quando tornano praticamente dagli Stati Uniti devono essere trattate e considerate proprio come un farmaco e quindi con tutte le implicazioni amministrative che ne delinquono. Anzi, poi vorrei sapere, ma credo lo dirà quando presenterà in caso Marco Ruggeri, quali sono le tempistiche che in merito proprio a quanto è stato detto sulla difficoltà dei trasporti in questo periodo, quali sono le tempistiche e le problematiche che ha avuto Vicenza in tutto questo. Le aspettative dei pazienti sono ovviamente molto alte, credo che dobbiamo anche buttare acqua sul fuoco perché sappiamo dai dati che ci arrivano sia nelle forme linfoblastiche che nei linfomi, non riusciamo a guarire tutti, si parla già di un secondo step di ulteriori terapie dopo, quindi però abbiamo delle curve che diciamo così si possono stagliare intorno al 40% in alcune casistiche di più, in alcune casistiche di meno, quindi voglio dire per pazienti come abbiamo sentito che sono arrivati alla quarta, quinta linea, diciamo così che è un'opportunità assolutamente eccezionale. Ovviamente anche la cittadinanza poi ci dirà un po' qual è il sentore di questo, ma il sentore ce l'abbiamo perché da noi ormai tutto questo viene comunicato con la stampa, con il blog e quant'altro, ormai arriva il paziente e ti viene a chiedere in ambulatorio, ma il professore io posso fare le CAR-T, sono una persona diciamo così che ha le caratteristiche per essere arruolata a questa terapia e quant'altro. Il professor Semenzato ha veramente subito affrontato i temi principali che Guzzo Nato ci aveva indicato a iniziare dalle aspettative dei pazienti, legittime aspettative dei pazienti, alle questioni che ora interesseranno preeminentemente la rete ematologica del Veneto, cioè la definizione del PDTA, il problema della appropriatezza, ma il professor Semenzato ha sottolineato anche che bisogna risolvere subito il problema del trasporto con soluzioni che come ha detto funzionato potrebbero essere anche le partnership con le self-factory regionali. E allora dal punto di vista del direttore generale dell'ospedale di Vicenza, Giovanni Pavesi, l'ospedale che ha chiuso subito la definizione del primo in tutto il centro nord ad affrontare il complesso iter di certificazione ad ottenere l'autorizzazione, non solo ma poi ha avviato tutta, ha dovuto affrontare tutta la questione, tutte le problematiche organizzative che Guzzonato e il professor Semenzato hanno ricordato. Quindi Giovanni Pavesi, sono molte le questioni subito sul tappeto, possiamo affrontarli iniziando dalla problematica dei trasporti. Voi come li siete regolati? Non sentiamo... Mi sente? Sì. Non la sentiamo. Sì. Buongiorno intanto, grazie a tutti dell'invito. Mi permette di ricordare che quando con Motore Sanità si cominciò a parlare di Cartier, quindi questo va a merito al Zannone e al Guzzonato, era ancora un tema, non dico teorico, ma insomma su basi veramente ancora così tutte da costruire. Oggi invece ragioniamo di casi concreti, quindi tutti insieme penso che abbiamo fatto dei passaggi veramente straordinari. Ha parlato bene Ruggeri, io aggiungo alcune considerazioni anche sugli aspetti logistici che lei giustamente ha accennato. Mi faccia dire così a livello anche aneddotico che con Ruggeri abbiamo vissuto dei momenti così abbastanza particolari perché avevamo fatto il predievo, avevamo mandato le cellule negli Stati Uniti, dopo ci siamo trovati nella necessità di prendere una decisione che era quella in pieno Covid, di avere l'ospedale ovviamente sulla parte delle terapie intensive impegnato. confesso che avevamo qualche posto libero ancora in terapia intensiva, non ce la siamo sentiti in quel momento lì di impegnare, di far partire la procedura, pensando che magari quel posto lì avrebbe potuto essere occupato nell'intanto da un paziente Covid. Però nello stesso tempo avevamo fatto tutto, c'era questa persona che aspettava, che ovviamente sono, come avete detto bene voi, pazienti particolarmente fragili con il rischio anche di una velocizzazione della patologia e quindi insomma con il rischio di trovare situazioni che si aggravavano di giorno in giorno. E quindi abbiamo vissuto dei giorni abbastanza difficili, non so se Marco Ruggeri può confermarli. Abbiamo mantenuto tutti un po' i nervi a posto e ancora in fase Covid, quando però la situazione ci sembrava avesse assunto un contesto più tranquillizzante, siamo partiti. Abbiamo fatto il primo caso, penso io non sono un clinico, non mi permetto di dare giudizio di niente, però Ruggeri magari se dopo puoi anche dare la situazione perché diciamo che parlo soprattutto per chi fa clinica, come voi, vedere i primi risultati sono stati qualcosa di straordinario, quindi gratificano anche tutto l'impegno e la complessità che ci sta dietro. Vengo di nuovo a bomba ai temi che Gussonato ha detto bene. C'è una grossa fragilità gestionale di tutto il sistema perché qua ragioniamo di notologia ma ovviamente si parla dopo del trascusionale, delle terapie intensive, della neurologia, della cardiologia e quindi il primo impegno grosso è quello di mettere insieme la squadra. Penso che Vicenza l'abbia fatto, è giusto quello che ha detto il professor Semenzato che anche altri adesso devono affiancarsi in quest'opera perché ovviamente non può essere, se queste quartiere avranno, come speriamo, una diffusione più ampia, non può essere solamente un unico centro, non possono essere neanche troppi. bisogna anche lì trovare a livello di programmazione regionale, di trovare un break even, un punto di equilibrio perché non può bastare solamente la qualificazione di JC che è stato uno dei motivi che ci ha consentito di partire probabilmente più veloci che altri, noi eravamo già qualificati. Bisogna capire potenzialità e necessità del sistema. Noi abbiamo molto sottolineato il fatto che come azienda abbiamo una self-actory autorizzata da poco da AIFA non tanto perché sia un passaggio decisivo nel fare la procedura Cati ma secondo noi è un elemento, e introduco l'ultimo ragionamento, che si può consentire in un futuro di essere ulteriormente attori protagonisti e mi spiego, la criticità logistica dei trasporti, delle tempistiche in tempo Covid che potrebbe ripresentarsi in altre situazioni, deve farci pensare ad un ragionamento di sistema non può essere solamente Vicenza che lo fa, di un'ipotesi di una self-factory locale si può concentrare nei sforzi anche di altre aziende. Non penso che allo stato attuale si possa arrivare tra virgolette alla carpi di Stato però una buona partnership, un buon accordo tra il pubblico e il privato utilizzando anche strutture nostre, strutture che insistono sui nostri territori ci consentirebbe probabilmente di superare criticità come quelle che abbiamo visto il fatto stesso dei trasporti dall'Italia, agli Stati Uniti, dagli Stati Uniti di ritorno qualunque altra criticità dovesse avvenire, dobbiamo riuscire a superarla intanto avendo una base produttiva, almeno in Europa perché penso che non sia pensabile di ragionare sempre oltre oceano e dopo, se possibile, anche all'interno del nostro territorio. L'ultimo punto che è stato posto, che come direttore generale è molto importante è quello di fissare un DRG nazionale. Oggi noi stiamo prezzando, al di là ovviamente della parte profonderante del Fondo Nazionale dell'AIFA per le malattie rare stiamo omologando l'intervento a quello di un trapianto e quindi le cifre sono abbastanza di copertura dei costi ma in questi primi due casi che abbiamo avuto non siamo dovuti, ringraziando Dio, intervenire con le terapie intensive. Se incominciasse a esserci anche un ricovero in terapia intensiva quindi con una complessità e dei costi aggiunti insomma noi dobbiamo trovare a livello italiano la definizione di un DRG che sia soddisfacente per tutti perché altrimenti l'accesso a questo tipo di terapia che ritengo almeno dai primi elementi che abbiamo sia di straordinaria, di straordinaria e prospettiva per il futuro rischierebbe però di rivenere quantomeno una nicchia mentre invece secondo me se riusciamo anche a dare i valori corretti dei costi che hanno le aziende possiamo anche accelerare su una diffusione maggiore per cui adesso qui sono un po' di considerazioni ma mi pare che sono quelle che circonscrivano il tema sul quale ci sentiamo molto impegnati anche per il futuro. Gnade, solo una domanda se posso a Pavesi poi a Luciano Floro quando noi facciamo un evento nazionale sulle CRT per quanto riguarda un coordinamento nazionale proprio dal punto di vista della gestione si fece avanti il Centro Nazionale Trapianti voi potete considerare che il Centro Nazionale Trapianti possa condurre questo coordinamento nazionale anche semplicemente a raccolta dati per poter svolgere come dire un ruolo di monitoraggio e anche di implementazione del sistema? Rispondo io dopo la sua parola a Luciano ma io ritengo di sì che ci voglia sicuramente un ruolo sovraaziendale su cui rapportarsi per cui adesso che sia il Centro Nazionale Trapianti che sia un coordinamento a livello specifico come sta facendo secondo me bene si è pensato cioè dobbiamo trovare in ogni caso un punto di sintesi che va oltre la singola iniziativa dell'azienda e può essere che anche attraverso il Centro Nazionale Trapianti si possono anche meglio definire aspetti che non sono di natura clinica ma sono anche di natura amministrativa ma che ci stanno e sono importanti dunque sono stati posti subito sul tappeto è uno splendido avvio di discussione questo nel momento in cui si passa dalla teoria alla pratica certo emergono i problemi della fragilità gestionale che ancora deve crescere certo come ha detto il dottor Pavesi aver ottenuto la qualificazione non basta fragilità gestionale ha detto certo ma ora è il momento in cui conta la solidità dei risultati e si deve partire dalla solidità dei risultati per trarre delle indicazioni Marco Ruggeri Vicenza si candida quindi anche all'organizzazione alla creazione di una self factory che possa diventare un punto di riferimento? sì allora qui il discorso ovviamente diventa complesso e sicuramente dovrà riguardare strutture come diceva il dottor Pavesi nazionali a livello di coordinamento la necessità che Covid ha evidenziato come diceva giustamente il direttore generale ha evidenziato un sistema fragile il sistema fragile nasce dal punto in cui ci sono moltissimi attori che partecipano e non c'è un controllo diciamo così univoco sui singoli attori e quindi è come un'orchestra che va diciamo abilitata a lavorare assieme aggiungo anche che questo è un dato forse poco conosciuto che c'è anche una grande competitività di slot nel senso che se Italia chiede a una delle due dita che attualmente hanno i prodotti commerciali di produrre un certo numero di carti non è detto che dopo tre settimane vengono prodotti perché la stessa richiesta ha fatto anche Francia, ha fatto Inghilterra, ha fatto Spagna, ha fatto Stati Uniti quindi il termine di tre settimane che ci viene dato come necessario per l'ingegnerizzazione è un termine sulla carta di fatto noi i nostri due farmaci che abbiamo ricevuto abbiamo ricevuto dopo sei settimane perché l'islotto è una decisione che ha l'azienda e che aspetta a lei noi non abbiamo diciamo possibilità di spingere su questo e quindi dobbiamo così in qualche maniera intervenire in un processo competitivo di richiesta questo fin tanto che le ditte organizzeranno delle self factory abilitate e sufficienti a rispondere alla domanda mondiale di questi nuovi farmaci qui entriamo ovviamente in scelte industriali di cui sappiamo poco però è evidente che loro lo faranno se ci sarà una domanda che giustificherà un impegno economico di self factory sicuramente ne stanno impiantando anche in Europa l'idea di un processo in parte locale trova secondo me sicuramente motivo da queste considerazioni che dicevo oltre al fatto che appunto ci possono essere problemi poi molto banali che hanno messo in ginocchio il sistema come il trasporto noi ricordo che Trump ha deciso il blocco del trasporto aereo l'11 di marzo e noi abbiamo ricevuto le nostre cellule il 10 marzo un giorno appena in tempo se no non avremmo potuto per dire la fragilità del sistema quindi l'idea di ragionare su una partnership pubblico privato nell'ipotesi di produrre questi nuovi farmaci a livello locale secondo me è assolutamente interessante era anche un'idea di AIFA tempo addietro e l'Italia sicuramente sta avanzando molto in questo campo attualmente sono circa 10 self-hattori abilitate, accreditate da AIFA per produrre alcuni prodotti ma tutte queste self-hattori tra cui Vicenza hanno delle disponibilità tecnologiche per produrre anche terapia genetica come quello del CRT che è un'ingegnerizzazione tipo virale è chiaro che qui dobbiamo ragionare a livello di rete si deve ragionare a livello di scelte politiche nazionali però diciamo la tecnologia lo ha reso possibile se un anno fa era impossibile pensare di produrre CRT a livello accademico locale se non con grande dispendio di energie di fondi attualmente le tecnologie sono rese fattibili ed è diciamo una cosa che può essere messa in cantiere è una scelta politica di spostamento di risorse che va decisa sembra significativo che di fronte a una grande sfida della medicina come le CRT ecco ora i problemi che emergono subito non sono per fortuna problemi assistenziali questo grazie alla splendida equip di Vicenza la sfida è stata stravinta ora emergono quindi problemi i problemi organizzativi allora professor Trentin certo Vicenza sta aggregando l'intero sistema Veneto ecco ora è il sistema Veneto è la rete che deve affrontare questi problemi organizzativi e lei crede nella possibilità come ha detto Claudio Zanon di poter ritrovare il modello che era stato creato per la rete tra pianti per un'organizzazione che sappia intervenire rapidamente allora se no volevo fare un attimo una precisazione per cui attualmente le company che forniscono questo tipo di preparati quindi queste cellule ingegnerizzate si stanno muovendo in Europa e tale per cui una di queste è già operativa ad Amsterdam con laboratorio e penso che l'Italia potrebbe entrare nell'ambito degli stati che possono richiedere per quanto di informazioni che ho avuto circa 5 minuti fa penso nel prossimo agosto ecco questo come possibilità pertanto vuol dire che questo bypasserebbe un pochino anche tutto quello che è il percorso per ottenere le cellule e il prodotto chiaramente è molto più semplice quindi che non fare voli transoceanici come pure mandare le cellule quindi direttamente quindi in California quindi per fare l'espansione l'infezione io penso che comunque ottenere dei prodotti che siano quindi molto molto quindi adeguati e soprattutto sorapponibili in laboratori diversi non basta quindi mandare il prodotto a feretico ma serve del personale quindi formato in modo adeguato cioè io non ho vissuto questa parte qua però vi porto un esempio che ho lavorato per 8 mesi un anno negli Stati Uniti dove espandevano quindi i linfociti che infiltravano il tumore perché tutto parte quindi da 30 anni fa quindi dove poi si è rivelato che non fossero così efficaci dal punto di vista terapeutico almeno nel laboratorio dell'Harvard di Boston e qui in quel momento lì quindi chiaramente servono dei laboratori sono attrezzati quindi con dei contenitori e tutta una serie quindi delle procedure che devono essere per la buona pratica e penso che sicuramente il Veneto si deve muovere perché come diceva prima Ruggeri che saluto perché io mi sento parte un pochino vicentino perché ho passato cinque anni a Vicenza dove quindi da matologo sono diventato ematologo va bene in senso quindi lasciatemi la definizione e penso quindi come diceva quindi Ruggeri bisognerà quindi che ci sia probabilmente più strutture nel Veneto questo richiede quindi che noi ci dobbiamo muovere con un accreditamento ed è quello che stiamo cercando di fare a Padova per l'accreditamento Jesse per la parte trapiantologica perché chiaramente cioè chi ci dà questo prodotto richiede che siano rispettati tutta una serie quindi di interazioni anche dal punto di vista proprio medico con tutta una serie di strutture che quindi il rinemiatore ma il neurologo tutta una serie di figure che sono importanti nella gestione perché finché le cose vanno bene è tutto positivo ma quando comincia se c'è qualche problema teniamo presente quindi sono delle terapie cellulari che poi se volete vediamo un attimo sull'applicazione un po' di effetti collaterali ci possono essere degli effetti quindi di una certa importanza pertanto immagino quindi che il lavoro di Ruggeri di questi ultimi anni due a tre anni sia stato dedicato prevalentemente a questo mettere in moto e in formazione un'equip di personale adeguato quindi per la gestione e io penso che comunque identificare quindi almeno più centri nel Veneto considerando i numeri dei pazienti che hanno le malattie che potrebbero beneficiare dei CAR-T sia quindi importante però queste sono anche decisioni politiche soprattutto come diceva già Ruggeri poi il scorso se riusciamo a avere una factory qui comoda che riesce a darci il prodotto finito tanto meglio perché allora diventa molto più semplice quindi che non far viaggiare questi materiali per tutta Europa oppure oltreoceano quindi stimolare la crescita e l'organizzazione di nuovi centri affrontare il sistema delle regole è il problema della rete della rete ematologica del Veneto professor Semenzato Sì allora guardate io volevo riprendere un paio di punti che aveva giustamente sottolineato Giovanni Pavesi cioè chi deve regolare chi deve regolare queste attribuzioni cioè è il e anche Zanon aveva posto il problema cioè è il centro tra pianti che deve fare questo fino adesso vi ricordo che l'ha fatto l'AIFA cioè perché l'AIFA a un certo punto all'inizio di questa avventura ha mandato una paginetta in cui c'erano le caratteristiche erano documentate le caratteristiche che un centro doveva avere e fra queste caratteristiche c'era la possibilità di la necessità pre-requisito che il centro avesse l'autorizzazione per il trapianto allogenico ecco il motivo per cui attualmente praticamente solo Vicenza ha questa possibilità di fare le caratteristiche però io vi ricordo che in Europa ci sono almeno otto centri che eseguono le caratteristiche senza avere l'autorizzazione per l'allogenico cioè hanno solo l'autorizzazione per l'autologo come hanno per esempio tutte le ematologie del Veneto allora anche qui io credo che dovrebbe essere fatta nell'ottica di una non dico assolutamente di parcellizzare questa metodologia ma perlomeno nel Veneto di aumentare i centri dove può essere fatta perché indubbiamente io credo che Vicenza non sarà assolutamente in grado di sopportare tutte le richieste che verranno dal Veneto e quindi si dovrà rivolgersi anche ad altre regioni il discorso per tornare a chi deve diciamo così essere il supervisor di tutto questo io credo che più che l'AIFA che più che altro dovrà determinare i costi gli RG e quant'altro dovrebbe essere il centro nazionale tra pianti che si fa carico di individuare i vari centri anche se dopo ripeto la parola finale ce l'hanno le ditte perché chi decide se un ospedale deve farlo piuttosto che non farlo sono le ditte che poi forniscono il farmaco cambiamolo così ed è l'ultimo step perché la fase finale è la site visit della ditta che poi dà il farmaco ecco quindi credo che questo sia molto importante e ritorno sul punto che dal punto di vista medico assistenziale non ci sono grossissimi problemi perché ripeto qualsiasi ematologia dei centri del Veneto potrebbe farlo il problema è diciamo così il fatto che ci deve essere un'organizzazione che prevede e l'abbiamo già detto il rianimatore il neurologo e quant'altro il gastroenterologo e così via e credo che dei colossi sanitari come Padova e Verona sicuramente non hanno problemi come ha fatto Vicenza ad allestire un team di questo tipo quindi il Veneto ha subito il problema della crescita dei centri che possano quindi altre ematologie accreditarsi e non lasciare sola l'equip di Marco Ruggeri allora vogliamo sentire il direttore generale di Padova Luciano Flor e poi Alessandro Lomeo per comprendere come Padova e Verona possano poi subito partecipare da protagonisti a questa avventura Luciano Flor direttore buongiorno grazie buongiorno a tutti voi grazie anche dell'invito dove ci si impara anche non solo si rappresentano le proprie situazioni e opinioni ma sentendo un po' quello che in questi giorni in questi mesi si è fatto su questo tema tutti credo abbiamo qualcosa da imparare io di sicuro io riprenderei due spunti per pensare per il futuro allora il punto primo è questa terapia si sta consolidando noi avremo probabilmente un numero crescente di malati che si potranno giovarsene e non vorrei assistere al fatto che mandiamo pazienti a curarsi fuori perché noi non siamo in grado di farlo parlo di livello regionale se la terapia è efficace e i nostri specialisti ritengono che ci siano dei casi in cui è appropriato garantirla noi dobbiamo essere in grado di farlo quando dico noi parlo di regione e dei centri che la regione insieme con l'autority nazionale vorrà individuare o i centri che saranno in grado di fare su questo vorrei fare alcune riflessioni io non so oggi se abbiamo una previsione del numero di malati che dobbiamo trattare ma non vorrei vedere sorgere in addetto pavisi anche se molto diplomaticamente un numero esagerato di centri perché tutti devono avere il proprio centro qui dobbiamo stare attenti perché dobbiamo avere gente specializzata centri specializzati e dobbiamo pensare al dimensionamento non tanto di un singolo centro ma di quanti centri ci servono e questi non possono che derivare dal numero di malati che pensiamo di trattare e dalla prospettiva di sviluppo che abbiamo nei centri che istituiamo allora Vicenza è in grado di fare quanti pazienti è in grado di fare Vicenza perché in questo momento se l'unico centro è in grado di fare non dobbiamo essere in grado di mandare tutti i pazienti a Vicenza problemi organizzativi problemi logistici vero vero durante il periodo del coronavirus nel massimo fulgore di questa miseria che si è abbattuta per la nostra regione e sul resto d'Italia Padova non ha rinunciato nemmeno a un trapianto nessun trapianto è saltato per il coronavirus siamo andati a prenderci organi in Italia e all'estero abbiamo organizzato l'attività ci sono numerose unità operative c'è la rianimazione allora si tratta di dare attività di cura dei tumori con il sistema di un'etcartin lo stesso rango che hanno i trapianti d'organo né più né meno è una terapia salva vita alla quale non intendiamo rinunciare e dobbiamo organizzarci per farlo Dio non voglia che siano problemi organizzativi quelli che ci bloccano questa cosa non esiste allora qualunque cosa ma così come chiamiamo l'aeronautica o chiamiamo la ditta privata con l'aereo per andare a fare e siamo in grado di organizzarci in qualunque modo anche per garantire questa grossa innovazione come rappresentata al nostro lato ognuno faccia il suo mestiere il servizio sanitario non è l'industria farmaceutica io su questo vorrei un ragionamento con i primici noi non dobbiamo pensare di farci i nostri sattori e di autonomizzarci perché ci facciamo tutto in casa e allora serve una capacità di interazione con l'industria con il privato con chi che sia ma noi non dobbiamo specializzarci a fare cose su cui è già specialista qualcun altro io la vedo da questo se è una novità che viene e non sarà probabilmente l'ultima prendiamola come tale e innoviamo anche dal punto di vista organizzativo poi vedremo se a un certo punto comprare diventa impossibile dovremmo fare ma oggi noi credo dobbiamo essere bravi a fare il servizio sanitario a fare i clinici e a interagire correttamente con l'industria che sia specializzata su questo punto noi non dobbiamo pensare che il nostro compito sia lo ribadisco noi non vogliamo sostituirci all'industria un rapporto chiaro corretto che sia sostenibile anche dal punto dell'organizzativo e qui vedo non è pensabile che noi andiamo avanti e indietro nell'America per tanto tempo e allora io credo che anche l'Italia si possa ragionare su come evitare di essere dipendenti dal viaggio negli Stati Uniti piuttosto che in un altro paese europeo insomma dei 120 115 130 miliardi del servizio sanitario una quota la potremmo derivare dedicare a questo modello organizzativo e a questa innovazione terapeutica e qui vengo alla fine imprescindibile secondo me l'aspetto nazionale il centro tumori mi va benissimo perché il centro il centro tra piante scusate il centro tra piante mi va benissimo anche perché poi ci sono i centri tra piante regionali e quindi la filiera organizzativa nazionale e regionale ce l'abbiamo impostata così come c'è la rete matologica c'è la rete dei tra pianti e credo che potremo mettere a frutto modelli organizzativi che già abbiamo sfruttato anche per questa innovazione se saremo capaci di guardare avanti perché se guardiamo sempre indietro io credo che facciamo fatica o troviamo difficoltà nelle regole che abbiamo oggi se per una cosa nuova servono regole nuove dobbiamo avere il coraggio di proporle e di attuarle perché l'alternativa io ho detto se la cosa sta crescendo sarà che vediamo i nostri pazienti andare all'estero i nostri specialisti non potendo farlo qua prescriveranno la cura all'estero e ci troveremo a rimborsare questo sarebbe davvero un fallimento del nostro sistema quindi il Veneto è chiamato però ora a dare una risposta una risposta questa domanda crescente alle grandi aspettative non solo alle grandi aspettative dei pazienti ma alle reali richieste che si moltiplicheranno questo è facile però immaginarlo già ora Vicenza ha una lista d'attesa di 25 pazienti e che cosa avverrà quando le indicazioni alle cartesi amplieranno magari al mieloma quindi bisogna organizzare una rete ancora più vasta più forte e allora Alessandro Leomeo che tra l'altro deve affrontare proprio il problema dell'accreditamento a che punto è Verona allora Verona che punto è grazie intanto dell'invito da parte mia da parte anche della direzione generale sanitaria che non è potuta essere presente oggi e quindi ringraziamo i coordinatori moderatori e il comitato scientifico e i colleghi veronesi con cui hai avuto anche modo di poter lavorare negli anni precedenti Verona che punto è il Verona ha presentato la domanda di essere richiesta la domanda di riconoscimento quale centro regionale autorizzato alla prescrizione e la somministrazione di terapie cellulare basate su CARP alla regione Veneto già nell'anno scorso nel 2019 e la regione ha dato parere diciamo positivo a proseguire con le aziende produttrici gli ulteriori approfondimenti per finalizzare poi la candidatura quindi penso che la regione Veneto abbia chiaro quali e quanti sono i centri che debbano essere necessari da poter coprire tutta l'offerta e le richieste da parte della popolazione Veneta e non Verona ha presentato quindi la domanda di accreditamento GESCI nel 2019 i valutatori sono venuti nel novembre 2019 a svolgere la verifica ma già nel 2015 in teoria Verona era accreditata a GESCI perché era attivo un programma di cellule tra pianti staminali tra le due unità operative di ematologia e di oncomatologia pediatrica e quindi si era attivato già un percorso nel 2015 poi con la modifica anche degli accordi stato-regione della normativa e l'aggiornamento degli standard GESCI si è dovuta ripresentare una nuova domanda in quanto era ritenuto fondamentale fare la domanda in maniera congiunta quindi che il programma tra pianti di cellule staminali coinvolgesse non solo unità operative di tipo clinico quindi l'ematologia dell'oncomatologia pediatrica ma anche la medicina trasfusionale e quindi si è ripresentata la domanda sono venuti valutatori a novembre del 2019 valutatori ispettori GESI che la caratteristica principale è quella comunque di non essere valutatori sistemisti quindi io sono un medico igienista non sono uno specialista in ematologia e medicina interna però sistemisti del sistema gestione qualità partecipale alle verifiche affiancate appunto da esperti di medicina interna nematologi laboratoristi che afferiscono ad altre realtà di altri centri italiani e quindi diciamo c'è una condivisione durante anche il percorso di certificazione sia prima sia durante che posto le verifiche è stata fatta quindi a novembre sia da valutatori del GESI a cui si sono affiancati i spettori del CINET e del CNS in quanto questi ultimi hanno avuto il compito di valutare il centro tra pianti dal punto di vista dell'aderenza normative in materia di tra piante e di utilizzo di cellule staminali in quanto non solo la normativa che richiede di essere riconosciuto centro CAR-T bisogna fare riferimento all'accreditamento GESI ma bisogna anche adottare gli standard e fare riferimento alla normativa da un punto di vista diciamo dei tessuti e la normativa sugli emocomponenti e quindi i valutatori GESI sono stati affiancati dagli ispettori del CNT e del centro nazionale San abbiamo ricevuto il rapporto inizialmente da parte del CNT del CNS a febbraio di quest'anno e a giugno di quest'anno il rapporto da parte del GESI adesso dovremo completare la risoluzione di alcune osservazioni gli spunti di miglioramento che ci hanno dato entro settembre per poi ripresentare formale richiesta in regione di essere riconosciuto come centro regionale a Verona è presente diciamo fin dal 1986 un programma di trapianti di cellule staminali che convolge le unità operative di oncologia e di metodologia ed recentemente è stato istituzionalizzato un gruppo intridisciplinare appunto per affrontare al meglio in maniera appunto un approccio multidisciplinare questa tipologia di pazienti questa tipologia di modalità con cui appunto trattare attraverso le cellule CAR-T è quindi presente un gruppo multidisciplinare coordinato dal professor Campare il direttore dell'unità operativa di ematologia a cui si affiancano il direttore e i colleghi collaboratori dell'oncolotelologia pediatrica per quanto riguarda appunto le due unità operative destinate alla selezione del trattamento del colloap dei pazienti a queste si affiancano le unità operative della medicina trasfusionale in cui sono coinvolti diciamo tutto il personale che afferisce all'unità di raccolta di processazione cellulare all'unità di aferesi per quanto riguarda appunto la procedura e la raccolta delle infociti atologhi destinati poi alla preparazione delle cellule CAR-T e non da ultimo appunto per quanto riguarda tutta la gestione delle complicanze che possono subentrare successivamente all'utilizzo di queste cellule CAR-T una rete anche di neurologi radiologi anestesisti e altri amministrati quindi la parte di terapia intensiva pediatrica che gestiscono poi tutta la parte relativa alle complicanze di tipo neurologico o dovute della cascata delle citochine siamo quindi al punto di avere l'accreditamento GESI di chiudere con l'accreditamento GESI e di provvedere alla ulteriore richiesta di conferma di riconoscimento da parte quindi Verona viene al traguardo allora rimarrei a Verona per sentire il dottor Andreini che è ematologo dell'ematologia centro tra pianti ecco quindi la candidatura di Verona ora concretizzando una delle questioni aperte che ha posto Gussonato all'inizio è quella della appropriatezza delle richieste e l'appropriatezza degli interventi lei è un medico trapiantologo di Verona ecco quando le indicazioni shiftano da una metodica alla richiesta di cattiva Buongiorno a tutti ringrazio gli organizzatori per l'invito e i colleghi online presenti chiedo alla regia se può mandare gentilmente l'unica slide che ho inviato esatto il mio compito era quello di presentare quelle che sono le indicazioni sostanzialmente trapiantologiche alla terapia da parte di pazienti affetti da linfoma non-Hodgkin e in particolare linfoma non-Hodgkin invia grandi cellule che ne accorgo con la WHO rappresenta circa un terzo da solo di tutti gli infomi non-Hodgkin linfoma non-Hodgkin è una malattia che come i chiamatologi sanno viene trattata inizialmente non con un approccio trapiantologico e quindi tantomeno con le carti ma con una semplice terapia immunochemoterapia che prevede l'impiego di un anticorpo monoclonale quale rituximab associato a una chemoterapia che prevedà l'utilizzo dell'antraciclina solitamente il numero di sei cicli è associato a minor alla radioterapia e da sola è in grado di portare risultati notevoli soprattutto se i pazienti presentano fattori di rischio favorevoli in particolare l'IPI se l'IPI è basso la capacità di guarigione di quasi ciclo di terapia è prossima circa al 90% tuttavia questa percentuale crolla intorno al 50-90% qualora l'IPI cioè appunto i fattori polinomastici siano sfavorevoli è appunto questa grossa fette di pazienti che deve essere destinata ad un approccio terapeutico più intensivo che in prima stanza è il trapianto utologo in passato studi gruppi di studi italiani ma anche stranieri quali francesi tedeschi hanno provato ad anticipare alla prima linea quello che è il ruolo del trapianto utologo provando anticipando appunto il trapianto utologo la prima linea per vedere se riuscivano a migliorare questo 50-60% di pazienti di alto rischio tuttavia questo approccio terapeutico si è rivelato fallimentare nel senso che anche se il trapianto utologo sembrava concedere un miglior controllo rispetto alla chimoterapia convenzionale tuttavia questo non si traduceva in un miglioramento della sopravvivenza globale pertanto il trapianto utologo ancora oggi riveste il ruolo carine nella terapia di seconda linea appunto avvisando in questo contesto il gold standard della terapia di seconda linea seconda linea prevedendo appunto dei pazienti che abbiano una malattia resistente o ricaduta l'utilizzo di farmaci comprendenti il platino quindi chemoterapia sostanzialmente di HP o similari che abbiano attività antinfoma e la capacità di mobilizzare le cellule per poter poi effettuare un trapianto utologo che nella nostra grande maggioranza dei casi di centri si basa su un regime di condizionamento che prevede di solito lo schema tipo BIM in questo contesto l'autotrapianto si è rivelato in grado di salvare circa o di recuperare circa la metà di quei pazienti che hanno fallito la prima linea di terapia quindi un 40-50% dei pazienti che hanno fallito la prima linea di terapia viene recuperato dal trapianto utologo e in questo contesto appunto che dal punto di vista d'approccio un pochino più tradizionale si inserisce lo schema di qui sopra cioè il paziente è trapiantato con il trapianto utologo quelli che guariscono ovviamente sono guariti ma c'è ancora una grossa fetta circa la metà dei pazienti che non riesce a guarire col trapianto utologo e presenta nell'immediato o più successivamente una ricaduta e a questa fetta di pazienti storicamente è candidata ad un approccio trapiantologico tipo allo trapiantologico quindi un trapianto che non è non prevede utile del cervello staminali del paziente stesso ma cerello staminali da un donatore che può essere un familiare un paziente non familiare oppure un familiare apridentico in questo contesto il paziente ovviamente deve essere con l'età idonea cioè nel massimo al di sotto 70 anni deve essere fit cioè deve avere un performance status adeguato per poter fare un trapianto deve avere un donatore ovviamente compatibile e soprattutto deve avere una malattia che sia almeno parzialmente chemosensibile cioè non si può mandare al trapiantologico un paziente che ha una malattia che è completamente fuori controllo ma deve essere almeno parzialmente sensibile a trattamenti chemoterapeutici in questo contesto diciamo questo approccio storico diciamo alla terapia trapiantologica per l'infomotica per le cellule mi piace considerare la parte sinistra della slide che considera un approccio un pochino più moderno cioè paziente che abbiano pallito diciamo una prima linea di terapia e che presentino rischi sostanzialmente bassi per quanto riguarda il fallimento a un trapianto utologo cioè una ricaduta di malattia tardiva quindi per tardiva si intende oltre i 12 mesi dall'esecuzione della prima linea di terapia è altamente probabile che sia un paziente che risponde in maniera efficace al trapianto utologo e quindi in questo contesto pazienti quindi ricadono dopo la terapia di prima linea ma ricadono tardivamente hanno buone chance di rispondere a un trapianto autologo diversamente se il paziente è un paziente che presenta immediatamente una refrattalità alla terapia di prima linea oppure dopo un'iniziale risposta presenta una ricaduta percoce tradotta appunto una ricaduta entro i 12 mesi dal tema di trattamento questi sono pazienti che difficilmente di esperienza di trapianti o comunque di amatologia generale sa benissimo che questi sono pazienti che difficilmente con il trapianto autologo cioè fanno parte di quell'aspetto di pazienti che trattati con il trapianto autologo costituisce probabilmente la metà che va male rispetto alla metà che va bene e pertanto questi pazienti è forse più opportuno evitare di sottoporre a un trapianto autologo e che conferirebbe soltanto necessità ma se possibile avviarli precocemente ovviamente anche in questo caso se possibile a una terapia di tipo trapiantologico allo trapiantologico purché ovviamente abbia un'età idonea abbia un performance alleguato abbia un donatore idoneo e se anche in questo caso una malattia che almeno sia stable disease ma idealmente sarebbe che almeno la malattia possa avvenire in remissione parziale perché il trapianto funziona sì ma non è una bacchetta magica il trapianto funziona quanto meno malattia c'è a momento del trapianto nei pazienti più sfortunati cioè pazienti che nonostante le prime e le seconde in terapia la malattia è presente ancora sì di progressione o di evidenza importante è molto probabilmente controindicato eseguire un trapianto allogenico d'amblè ma è forse più adeguato avviare il paziente a trial clinici o a terapie sperimentali che potrebbero utilizzare i farmaci di recente introduzione come il checkpointinib la lenaldomide o piuttosto che il pixantrone se indicato piuttosto che l'ibrutinib o l'oporatuzumab tuttavia questi farmaci non spostano di una virgola quella che è la posizione la collocazione del trapianto eugenico cioè questi farmaci non sono in grado di guarire da soli un trapianto un linfoma analogico che sia ricaduto o che sia andato in progressione dopo la prima in terapia questi farmaci servirebbero soltanto come bridge terapia bridge al trapianto cioè una terapia ponte per arrivare a un trapianto allogenico che è quanto si considerava di meglio a disposizione fino adesso fino a qualche anno fa perché chiaramente oggigiorno come argomento della discussione odierna chiaramente è giusto che l'ematologo si ponga la domanda se è più corretto avviare un paziente del genere a una terapia trapiantologica in senso classico cioè una terapia alla trapiantologica o non sia invece di più opportuno avviare un paziente del genere cioè una terapia che è refrattaria o comunque scarsamente responsiva ai trattamenti timotrafici tradizionali a una terapia innovativa quale è quella dei CAR-T a questo riguardo si può fare una versione personale conclusiva spesso non si sa ancora adesso quale sia la collocazione giusta della terapia del CAR-T soprattutto in confronto alla terapia trapiantologica cioè si sa che l'indicazione è una forma che sia resistente a diolini di terapia o a un trapiantotologo però ancora non si sa bene quale sia meglio se il trapiantologico o i CAR-T per rispondere a questa domanda io non credo che siano due terapie due approcci terapeutici che vanno in competizione l'uno con l'altro nel senso che anzi credo che siano complementari in quanto come appena detto l'allotrapianto credo che sia più da riservare a persone a pazienti che abbiano agli altri che devono avere un donatore disponibile ma soprattutto a pazienti che abbiano poca malattia al trapianto idealmente in remissione completa o quasi in remissione completa mentre al contrario i pazienti di avviare i CAR-T sono pazienti che devono avere malattia cioè sono pazienti che non hanno risposta a tre tere precedenti e la malattia è tangibile misurabile facilmente misurabile proprio perché è presente anche perché questo faciliterebbe ovviamente in un secondo momento l'espansione dei CAR-T che come penso qualche collega qualche avanti spiegherà l'espansione dei CAR-T è chiaramente direttamente correlata al successo terapeutico cioè tanto più al quattordicesimo giorno dovrebbe essere proficua l'espansione dei CAR-T tanto maggiore la probabilità che la terapia abbia successo cioè se al quattordicesimo giorno non c'è stata l'espansione dei CAR-T è verosimile che la terapia molto probabilmente risulterà fallimentare a completamento di questa di questa mia presentazione volevo soltanto dare due dati circa visto che prima si parlava dell'impatto della Covid sul trapianto mi collego quanto diceva il direttore generale prima di Padova che Padova non ha rinunciato sostanzialmente non ha ridotto l'attività trapiantologica e in questo senso penso di poter mischierare anche dalla parte a meno per quanto riguarda i trapianti di servo staminali di Verone nel senso che facendo un confronto tra l'anno scorso e quest'anno l'attività trapiantologica di Verone dell'anno scorso per quanto riguarda la selezione adulti aveva previsto un 40 trapianti autologhi eseguiti nel 2019 e 40 allogenici se consideriamo solo i primi sei mesi quindi da gennaio a giugno l'attività autotrapiantologica aveva previsto 21 autotrapianti nel 2019 e 18 autotrapianti per quanto riguarda gli allogenici quest'anno limitatamente i primi sei mesi chiaramente l'impatto c'è stato perché a marzo abbiamo fatto soltanto un trapianto quando facciamo 3-4 trapianti al mese quindi un lieve caldo c'è stato nel senso da 18 allogenici di più di sei mesi quest'anno abbiamo fatto i 15 però giusto perché c'è stata una flessione nei mesi di marzo quando c'è stato il blocco delle frontiere ormai sapete che la maggior parte dei trapianti allogenici vengono eseguiti da un attore alternativo l'anno scorso 40 trapianti 25 erano da un attore alternativo per cui il blocco delle frontiere che c'è stato soprattutto nei comuni di Italia a marzo ha chiaramente avuto l'impatto ma che è stato rapidamente superato il mese eccessivo nel senso che utilizzando cellule criopreservate abbiamo ripreso l'attività trapiantologica ordinaria e già a oggi posso dire che a oggi abbiamo già recuperato abbiamo già fatto lo stesso numero di trapianti che avevamo fatto nei sei mesi dell'anno precedente questo appunto per concludere che anche a Verona il numero di trapianti è stato supermente sovrapponibile a quello dell'anno scorso Daniele posso fare due velocissime domande che vanno ai colleghi ma anche a Francesca Venturini come direttore di farmacia e naturalmente Signore Cavallari allora la prima domanda è io ho la sensazione e qui ha perfettamente ragione Luciano Flor che in Italia come al solito fa le nozze con i fighi secchi voi sapete molto meglio di me io sono un oncologo voi siete gli ematologi cioè io partengo da quella categoria che cerca di guarire voi siete quelli che da storicamente guarite comunque hanno una certa percentuale di paziente voi sapete meglio di me che per fare un trial randomizzato di un farmaco che migliora di anni la sopravvivenza nel bianoma multiplo sono costati decine di milioni di euro in Europa ecco lo Stato ha stanziato 10 milioni di euro per la ricerca cosiddetta accademica locale per centri che prima erano 8 poi sono scese 6 come al solito si fanno bellissimi piani bellissime idee ma poi non vengono finanziati ecco quindi la partnership pubblico privato non so cosa ne pensate è assolutamente indispensabile la seconda domanda che farai tutti i colleghi è ma nella storia dell'oncologia un farmaco nasce in tartalina poi arriva in prima anche sulle attuali indicazioni senza le altre le CAR-T secondo voi scaleranno quelle che sono le linee di terapia cioè magari prima in un trapianto invece che l'ultima razza si può fare una CAR-T e poi dopo il trapianto stesso perché se è così il panorama come diceva il professor Semenzato cambia enormemente anche sulle necessità sul numero dei centri grazie scusate volevo intervenire proprio su questo punto perché e mi ha dato mi ha dato il dottor Andreini quando alla fine della sua presentazione praticamente ha posto il problema se le CAR-T possono far precedere il trapianto allogenico o diventare una terapia diciamo così non l'ultima spianza purtroppo le terapie sperimentali anche per disposizione di tipo regolatorio vanno provate in quei pazienti che hanno già terminato tutte le linee possibili attualmente in corso questo ovviamente c'è anche per le CAR-T c'è una salvaguardia nel senso che un paziente per eseguire le CAR-T non deve aver fatto più di 5 terapie cioè non deve essere in articolo mortis bisogna però diciamo così cercare di vedere più lontano e come diceva Claudio Zanon adesso le CAR-T si sta cercando di anticipare sempre le linee di terapia perché probabilmente ovviamente con una selezione adeguata dei pazienti perché questo è fondamentale ma si cercherà di far precedere le linee di terapia in modo da avere anche pazienti che possono fornire cellule che poi vengono ingenerizzate che non siano ormai esauste diciamo così e quindi ci sarà sicuramente nei prossimi anni una maggior selezione di pazienti devono esserci delle chiare linee guida che ci permettono però di anticipare questo tipo di terapia e d'altra parte volevo anche fare un'aggiunta rispetto a quello che è stato detto sulla organizzazione necessaria per questo tipo di terapie ricordiamoci che noi ematologi qui a Padova per esempio abbiamo un reparto di 23 letti ma normalmente abbiamo un paziente in rianimazione perché per via dello shock complicanza e quant'altro cioè si tratta solo di ufficializzare diciamo così dei sistemi che già funzionano la complessità clinica naturalmente pone una 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 questione di indicazioni Andreini ha detto che le alla fine i percorsi sono complementari uno non esclude l'altro però c'è il problema della grande crescita della domanda dei pazienti che arrivano a queste terapie di grande complessità professor Trentin allora grazie per la possibilità di intervenire perché quindi facendo un attimo quello che aveva sottolineato il professor Semenzato vorrei farvi vedere un attimo un paio di slide perché così uno capisce l'entità del problema allora se riesco a condividere allora un attimo ok perfetto riuscite a vedere allora il problema da dove nasce nasce quindi da questo studio che è importante dove vi fa capire vi faccio vedere le curve che pazienti che sono ricaduti refrattari cioè a due linee terapia o al trapianto vedete hanno una curva cioè una sopravvivenza globale che è veramente bassissima cosa vuol dire che noi di questi pazienti che ricadono o sono refrattari ne salviamo solo il 7% vuol dire che noi dobbiamo intervenire quanto prima con una terapia adeguata cioè se il paziente è già in scrifattare una prima linea di terapia ci dobbiamo già da un meeting che abbiamo fatto anche la settimana scorsa ci dobbiamo quindi attivare nell'ambito della valutazione del paziente per eventuali CAR T perché perché la possibilità che questo quindi abbia una risposta risposta quindi è veramente bassissima e teniamo presente che stiamo parlando di tumori neoprasie quindi alto grado di malignità pertanto qui non è che c'è la possibilità o si convive per mesi o per anni cioè dico o si supera si controlla la malattia e si guarisce oppure si perisce ok questo infatti se vi faccio vedere un attimo anche la curva quella dello studio quindi zoom scusate che vado un attimo avanti con un'altra diapositiva vi fa rendere conto di come la situazione sia veramente problematica però vedete che comunque con le carti inifobi via grandi cellule che sono ricadute rifattare quindi dopo quindi a due linee perché queste sono le condizioni quindi le indicazioni AIFA al giorno d'oggi vedete che si riesce a recuperare quindi un 47-50% è molto presumibile che questi pazienti siano siano quindi guariti e allora cosa succede con la terapia normale questo è con le carti e questo in pratica sono i studi con le terapie classiche e vedete quindi che mentre questa curva quindi continua a scendere quella con le carti va a plateau vuol dire quindi che possiamo avere delle possibilità di recupero di recupero quindi di paziente per tanto quindi con tutti i problemi correlati all'idoneità del paziente che comunque se volete si può affrontare alle complicanze quindi neurologiche o la CRS la sindrome del rilascio citochilico però sicuramente è qualcosa che noi nel momento che abbiamo identificato quindi il paziente già dopo una prima linea cosa vuol dire certi pazienti hanno delle alterazioni a livello molecolare con traslocazione di traslocazione di geni come BCL2 BCL6 o Desimic che creano delle categorie di pazienti particolarmente resistenti chiaro è una terapia che non possiamo fare ad 80enne però a di sotto dei 70 anni possiamo quindi pensare di attivarci e allora quindi come diceva prima Andrini mentre questa è una terapia che va fatta nel paziente che ha malattia nell'allogenico il paziente lo dobbiamo portare al trapianto con meno malattia possibile altrimenti anche l'allogenico quindi è un buco nell'acqua nel senso che non permette quindi di ottenere una risoluzione questo pertanto quindi c'è un po' l'indicazione e direi che comunque bisogna che identifichiamo questi pazienti quanto prima e forse quindi questo porterebbe quindi probabilmente ad aumentare il numero di pazienti che sono candidati alle Carte ok grazie grazie professor Trentin perché il suo richiamo al bisogno di un'attivazione rapida di decisioni all'attivazione rapida delle procedure Carte è un richiamo forte perché si discute certo si discute ma sullo sfondo drammatico della prognosi di pazienti gravissimi lei ha detto mortalità al 7% e noi abbiamo ricordato all'inizio di questa discussione che ci sono già 25 pazienti in lista d'attesa per il trattamento Carte ma sono ancora in vita e per quanto tempo ecco le risposte che il sistema è chiamato a dare sono immediate sono drammatiche e in una in un quadro in un'evoluzione come dire anche culturale che cambia cambia notevolmente ora abbiamo cellule che diventano farmaci e allora vorrei sentire Francesca Venturini che dirige la farmacia di Padova su questa complessità anche il lavoro di chi dirige la farmacia di chi deve gestire un nuovo flusso di farmaci di terapie di cellule ecco come aumenta la complessità come si risolve la complessità Francesca certo innanzitutto grazie dell'invito e dell'interessantissima discussione a cui abbiamo assistito finora dal punto di vista della farmacia sì come lei diceva questi sono farmaci anche se dal punto di vista diciamo tradizionale non sembrerebbero rientrare nei canoni diciamo del prodotto farmaceutico a cui noi siamo abituati a parlare però invece lo sono lo sono formalmente e questo mi permetta di dire che richiede oltre a questo sforzo multidisciplinare organizzativo a cui abbiamo già assistito anche uno sforzo formativo perché queste nuove categorie di farmaci richiedono anche una grande formazione anche di professionisti come i farmacisti che devono sul campo imparare e formarsi su queste nuove terapie e perché come ricordavano i relatori precedenti tanti sono i parametri che devono essere che devono essere validati per poter fare un trattamento all'interno di un'organizzazione come l'ospedale si è parlato dell'accreditamento GESI si è parlato di una serie di altri parametri proprio ricordando la parte della farmacia nell'accreditamento GESI c'è proprio un capitolo specifico che riporta come i farmacisti che fanno parte del team devono avere una formazione sulla terapia cellulare quindi è una cosa che è assolutamente imprescindibile sulla terapia cellulare su tutta la parte di efficacia sulle reazioni avverse sulla gestione degli effetti collaterali si è parlato prima anche dell'antidoto del pecilizumab quindi sono è un aspetto a cui non siamo molto abituati ripeto quando parliamo delle terapie tradizionali il secondo aspetto è quello logistico che appunto i colleghi di Vicenza che hanno testato sul campo hanno descritto in maniera egregia anche in un momento covid quindi anche in un momento in cui l'organizzazione sicuramente risentiva di una pandemia che influenzava tutto il resto e poi chiaramente la gestione di questo farmaci ha anche una parte se vogliamo amministrativo contabile che è la parte relativa alle modalità di rimborso la gestione del registro AIFA e anche su questo questi farmaci hanno avuto diciamo una contrattazione AIFA un po' diversa dagli altri perché hanno il cosiddetto payment at result cioè un pagamento che avviene nel momento in cui il paziente ha un certo risultato clinico anche questa è una gestione che vede diversi attori all'interno dell'ospedale però sicuramente la farmacia ha un ruolo sia nel mantenimento del registro AIFA che nel mantenimento poi di tutti quelli che sono la contabilità dei farmaci innovativi e la contabilità anche poi del fatto dei diversi pagamenti però in questo caso correlati all'outcome e quindi un bilanciamento diciamo fra clinica ed economia ecco se come ho sentito dai clinici questa tipologia di terapie diventa anche più diffusa non soltanto come tipo di patologie ma anche avanza di linea in termini di trattamento certo bisognerà pensare ad una organizzazione in questo senso delle farmacie ancora più diffusa perché adesso sono le eccezioni ma potrebbero diventare appunto terapie più diciamo più comuni diciamo su un numero di pazienti più elevato bene grazie dottoressa anche perché lei ha poi ora introdotto dei temi dei temi importanti che dobbiamo discutere il payment by result e sullo sfondo c'è il grande problema che ha ricordato Guzzonato in apertura uno dei più grandi da risolvere però subito nell'immediato che è quello della definizione di di RG di RG omogenei possibilmente in campo nazionale quindi su questo io sentirei poi subito Pavessi e Flor ma prima vorrei dare la parola alla rappresentanza dei pazienti a Silvia Cavallarin ma a cui chiedo però un attimo di pazienza solo per una piccola puntualizzazione del dottor Ruggieri quindi Marco Ruggieri il dibattito è iniziato da lei ha investito tutta l'ematologia del Veneto vorrei brevissime sue considerazioni per chiudere questo primo ciclo sulla complessità clinica e sui problemi clinici dell'ematologia oggi che deve dare una risposta a pazienti drammatici e deve darla subito Marco Ruggieri sì grazie il dibattito è assolutamente interessante e direi anche confortante sentire Pado a Verona che si sta muovendo e sono diciamo ormai i prossimi anche perché una cosa che va tenuta in considerazione noi stiamo ragionando su una cornice clinica che è circa 3-4 anni in ritardo rispetto a quello che viene fatto nel mondo purtroppo dobbiamo rendersi conto che è così ma l'Italia parte tardi gli Stati Uniti è già ormai in pubblicazione tra gli zoom a 7 che confronta il CAR-T verso l'alto trapianto quindi ormai il CAR-T lo useremo non più come diceva Angelo giustamente nelle terze e quarte linee ma in seconda linea in quei 50% dei pazienti che ricavano dopo la prima linea di terapia sono ormai in commercio in Stati Uniti e fra poco verano anche noi il CAR-T per il Milamo Multiplo Livio sa bene quanti sono i pazienti con Milamo Multiplo quindi avremo un incremento e noi paghiamo 4-5 anni di tecnologia e di visione clinica ritardata rispetto a quello che si fa e siamo destinati a perdere la battaglia diciamo così da cui accennava il direttore Flor di tenerci qua i pazienti perché è chiaro che quando avremo in commercio come sta avvenendo un CAR-T in America che può essere usato at home perché non ha e si chiama l'isola capatagene che non ha eventi avversi gravi è chiaro che ci sono le strutture ma penso anche l'ematologia lombarda che proporrà questo tipo di trattamento e il paziente andrà lì e quindi l'invito è che dobbiamo avere una visione futura agganciata a quello che è l'attuale presente statunitense o anche europeo che è sicuramente 4-5 anni più avanti della visione italiana e quindi su questo dobbiamo lavorare molto e avere una strategia anche di tipo politico e amministrativa che vada oltre il sistemare l'attuale che è sicuramente già in ritardo e quindi colgo veramente con molto piacere queste notizie che i colleghi hanno dato che si sta muovendo tutta la struttura veneta perché abbiamo una sfida enorme da vincere per i nostri pazienti Ruggeri in Lombardia ci stiamo ancora leccando le ferite quindi tempo ne avete su questo te lo posso assicurare non credo che partiremo con le cartine siamo ancora lì che stiamo traballando insomma conosco bene la realtà di Paolo Corradini lui partecipa a studi registrativi in cui il cartì viene usato in linee molto più avanzate molto prima e questo è il futuro che è già qui e quindi dobbiamo ragionare già su questo tipo di paradigma ma è l'unico gli atticenti sono in difficoltà non è una buona cosa comunque questa ovviamente comunque Marco io quello che volevo aggiungere tu hai detto benissimo però noi non è che siamo indietro dal punto di vista tecnologico perché noi non ci affidiamo alle nostre self-actory eccetera dal punto di vista tecnologico le hanno risolto le varie ditte che propongono il farmaco noi siamo indietro dal punto di vista culturale e organizzativo perché non abbiamo abbracciato in tempi giusti quella che è una filosofia che hanno abbracciato gli altri perché dal punto di vista tecnologico lo fanno le ditte ci hanno messo dieci anni ci hanno messo quello che dovevano metterci però diciamo così a noi spetta affrontare il problema organizzativo non tanto quello tecnologico ma è culturale siamo alle prese con il futuro ma il Veneto è l'avanguardia di fatto oggi nel sistema Italia Carti un sistema e Silvia Cavallarin lo avrà ascoltato con piacere che ora ipotizza addirittura Carti in seconda linea un sistema Carti che può ampliare le sue indicazioni al mieloma un sistema che però deve dare una risposta immediata delle esigenze drammatiche per persone che stanno male persone che hanno un'aspettativa di vita molto bassa e allora Silvia Cavallarin che porta il vessillo di cittadinanza attiva che è consigliera di parietà effettiva nella città metropolitana di Venezia Silvia Cavallarin come conduce la sua battaglia allora intanto io ringrazio Motore Sanità per l'invito io partecipai anche al convegno del 28 maggio dell'anno scorso Rodemarca Carpi prospettive attuali e future quindi ringrazio sempre per il coinvolgimento che date alla nostra associazione allora io ringrazio anche tutti i professori che stanno partecipando a questo webinar e come dissi l'altra volta io che sono un avvocato che sono giuridica capisco riesco a capire quello che dite ciò che che prende per di più alle associazioni alla mia associazione che non rappresenta solo i pazienti ma che rappresenta tutti i cittadini che purtroppo possono ammalarsi che l'innovazione non diventi un problema l'innovazione all'inizio qualcuno ha detto si tratta di una rivoluzione epocale poi nell'ascoltare i vostri interessantissimi interventi io mi sono fatto degli appunti io ho scritto un problema politico una fragilità gestionale siamo competenti dal punto di vista tecnologico ma ci sono dei problemi dal punto di vista organizzativo allora noi pensiamo che davanti all'innovazione serva un cambio di paradigma so che rispetto a voi che sul campo salvate le vite umane sentire parlare sembra sempre la solita riaprita ma credo che proprio davanti a tutto questo davanti ai problemi tecnici organizzativi operativi organizzativi ed economici serva veramente la rete e all'interno della rete devono essere presenti i pazienti ciò che a cittadinanza tiva sta a cuore ed è stato ribadito anche a livello nazionale e l'accesso trasparente corretto e accelerato al clinical trial questo è la cosa che preme di più e una cosa che dico dal punto di vista personale di volontaria sono fermamente convinta che l'innovazione questo tipo di innovazione di cui stiamo parlando oggi possa veramente ricostruire quel rapporto di fiducia tra medico e paziente che nell'ultimo periodo è andato perduto questo è la cosa fondamentale e ciò che ci arriva dai nostri report è che molti italiani non sanno cosa sia il clinical trial non sanno quali sono accesi non sanno come si possa partecipare al ricordamento quindi questo è uno spunto che lascio che lascio che lancio qui grazie scusa Daniele solo una domanda a Pavese bruciapelo poi ti lascio subito ma tui costi ancillare con il DRG in Veneto ci stai perché il DRG io penso che voi fate riferimento a trapianto allogenico in Lombardia è circa 100.000 io non so quanto sia in Veneto cioè riesci a coprire i costi ne approfitto per dire e ringraziare che siamo 101 su Zoom e 140 su Facebook quindi la discussione è molto seguita e ringrazio tutti i partecipanti copriamo i costi se non lo portiamo in terapia intensiva quindi siamo proprio a copertura direi molto tirata perché il valore del trapianto che appliciamo noi è la metà di quello che hai detto tra i quali in Veneto per noi ragioniamo più o meno i 40.000 euro quindi se posso e proprio riallacciandomi qui per me in cortezza non adesso io ringrazio perché è un ribadio interessante a me è servito molto perché sono il pignorante della tavola ma anche un conghitato non dico di pietra ma che ovviamente è l'industria farmaceutica perché tutti i ragionamenti che abbiamo fatto passano attraverso però la volontà o meno di qualificare le strutture e poi di appredirci di slot per la fornitura ha detto bene prima Ruggeri noi abbiamo aspettato ma non è una critica ma per capire dopo il contesto operativo in cui ci muoviamo il doppio del tempo che la prima l'industria farmaceutica che ci aveva qualificato si è impegnata a fornirci le cellule diventate farmaco quindi ingenerizzate e quindi nessuna nessuna ovviamente volontà di diventare noi produttori di farmaci questo non esiste però un patto forte con questa gente bisogna farla perché altrimenti qui non è una fornitura to cure di una scatoletta di pastiglie qua c'è una filiera l'abbiamo detto bene tutti di gestione una filiera organizzativa che deve essere condivisa su certi passaggi e quindi noi oggi abbiamo la qualificazione con due industrie farmaceutiche onestamente non so quante altre siamo in grado dopo di fare questo tipo di fornitura quanti centri ritengono di qualificare nella nostra regione è superfluo che sottolinea ancora quell'interrogere che noi l'entrata di Padova e della Roma la vediamo non solo favorissimamente ma importante è veloce però dopo ci fermiamo lì c'è un ragionamento che questi fornitori fanno invece per ampliarla ecco e allora anche magari supportati su qualche spezione della giurgistica che siamo in grado di dare qua a Vicenza ma sicuramente anche a Padova e a Verona può essere un ragionamento perché se c'è un'evoluzione anche di questo tipo di faranto secondo me per evitare la fuga del paziente bisogna anche il fatto forte con l'industria farmaceutica la facciamo ripeto non è una fornitura che mettiamo a gara il cipio attivo e ci facciamo fare lo sconto qui il problema è più complesso la qualificazione di invadiva alla fine è in mano anche a loro perché se domani mattina uno di questi signori decide che con quella struttura tra virgolette non vuole lavorare non so come possiamo convincerli l'esperienza che abbiamo avuto qua a Vicenza è di un processo di qualificazione molto severo molto attento non è una formalità non è una carta che si presenta sul movimento multiplo per cui bene e torno a una delle prime domande che abbiamo affetto bene un organismo un momento regolatore che faccia il raccoordinamento del sistema può essere il centro nazionale tra pianti però il dialogo con l'industria farmaceutica deve essere molto serrato secondo me anche molto selettivo e anche molto collaborativo nell'ottica di dire non voglio che la gente la parola da un'altra parte a farsi la terapia grazie direttore Pavesi perché le CAR-T non sono terapie che si ordinano si ordinano su Amazon Stati Uniti ma ci sono le aziende le grosse aziende e oggi hanno scelto proprio con questo dibattito di essere testimoni delle delle richieste e stanno ascoltando con grande interesse questo dibattito proprio perché stanno nascendo e lo vediamo proprio da l'abbiamo visto in queste due ore di discussione molte esigenze molte valutazioni a iniziare dalla prima si è capito che ci sarà una bisogna ampliare la nostra capacità di dare risposte perché è la domanda che si amplia si amplieranno le indicazioni i centri quindi devono crescere e perciò ora vorrei sentire anche Luciano Flor perché Daniele scusa posso dare una risposta al dottor Pavesi l'azienda nel nostro percorso ci sarà nella parte dell'evento nazionale e quindi ovviamente voi che siete un centro così importante è giustissimo che siate presenti e che poniate queste domande tutto qui questo è il momento dell'ascolto per l'industria del farmaco che è poi proprio alla fine di questo percorso che noi compriamo con Motore Sanità e con l'importante sostegno proprio di Gilead e questo a testimoniare l'interesse il grande interesse ad ascoltare questo a prendere il polso della situazione letteralmente ma ora in questa fase finale della discussione mancano dieci minuti vorrei appunto parlare di regole e allora ci sono regole come ha iniziato il dottor Padesi ad affrontare regole amministrative quindi il DRG questa è la grande questione il payment by result sono le regole amministrative che devono essere definite perciò la parola Luciano Flor ma ci sono le regole cliniche e non abbiamo parlato chiaramente del PDTA quindi regole DRG regole PDTA per gli ultimi dieci minuti Luciano Flor grazie io volevo proprio intervenire su questo perché la slide che ci aveva fatto vedere Paolo Mussonato ci ha detto tutto quello che c'è ancora di aperto e che bisogna affrontare il fatto consolante è che comunque è stata data avvio l'attività clinica c'è un paziente trattato anche se non abbiamo risolto tutti i nodi regolamentari di finanziamento di condivisione logistica e questo è incoraggiante perché una volta tanto la pratica anticipa la predica allora visto che stiamo parlando di regolamentare non è che regolamentiamo una cosa e poi l'attività clinica ci si deve adattare io credo che oggi dovremmo fare una regolamentazione che sia funzionale all'attività clinica che dobbiamo svolgere e che tenga conto anche delle cose nuove che ci sono forse il dialogo che dobbiamo avere con l'industria non è mai stato del tipo di quello che dovremmo affrontare abbiamo un discorso nuovo da fare che forse è anche di partnership che forse è di maggior coinvolgimento responsabilizzazione di tutte le parti ma noi su questo vorremmo esserci allora oggi non è stato un problema l'assenza di regolamentazione per fare il primo caso non lo deve essere neanche per il secondo il terzo il quarto ma è ovvio che la regolamentazione a questo punto è incombente necessaria innanzitutto perché ci comportiamo omogeneamente siamo all'interno di una rete che ha condiviso e sta condividendo percorsi clinici sta condividendo indicazioni appropriate sta condividendo anche la priorità sui casi che dobbiamo mettere in trattamento e le opportunità che ci vengono offerte è ovvio che dobbiamo avere anche uno strumento gestionale organizzativo che sia omogeneo all'altezza io non sono preoccupato devo dire per il ritardo che abbiamo avuto perché al ritardo non ci possiamo fare nulla non lo possiamo recuperare noi possiamo guardare in avanti e con un'agenda molto stretta con la slide di Paolo che richiedo perché mi interessa dovremmo a fianco di ciascuna voce mettere una data e quando siamo in grado di fare quelle cose che devono essere fatte perché io e il collega Pavesi e tutti gli altri che sono in questa situazione oggi ragioniamo nel modo migliore possibile per quello che noi siamo capaci di fare avendo chiaro che abbiamo una priorità che è un'altra questo questo lo facciamo perché a noi la regione Veneto ci ribadisse continuamente che il servizio sanitario è fatto per dare le risposte migliori ai malati e se la regione Veneto è riuscita a partire nonostante le difficoltà del coronavirus vuol dire che c'è stata comunque un sostegno e una spinta poi su alcune cose siamo già molto pronti e mutueremo e condivideremo e allora accanto al livello nazionale e regionale che devono fissare le regole è opportuno anche un raccordo fra aziende per funzionare omogeneamente e senza disdegnare di darci una mano quando è possibile perché la grande forza del servizio sanitario Veneto è quello di avere una rete in molti settori e il fatto che senza tanta formalizzazione riusciamo a darci una mano perché quando va bene va bene per tutti e quando va male va male per noi siamo grazie direttore Flor perché il Veneto è una regione che è sempre cresciuta sulla cooperazione cioè sulla sua capacità di fare rete e ritorniamo quindi in conclusione a parlare di regole che diventano le regole del reclutamento le regole del percorso clinico le regole che possono essere sintetizzate nella sigla di DRG quindi sentiamo rapidamente il professor Trentin e alla fine sentiremo naturalmente il coordinatore di rete semenzato e poi propongo sindora che proprio perché la slide di Guzzonato ha avuto un grande successo e ha posto tutte le questioni che poi alla fine si concluda proprio ritornando alla slide di Paolo Guzzonato e Paolo potrebbe sintetizzare quello i punti chiave a cui abbiamo dato risposta quelli a cui invece quelle che invece attendono ancora una risposta e che restano restano aperti quindi professor Trentin allora per quanto riguarda la parte del DRG non è che possiamo entrare tanto in merito però sicuramente sarà un problema quindi importante che dovrà essere condiviso a livello nazionale come diceva prima quindi anche per la parte del trapianto c'è già il DRG del trapianto allogenico ha dei costi diversi da regione a regione mentre sui 40 50 mila euro quindi nel Veneto in altre regioni è sugli 80 90 mila euro per cui ci sono anche problematiche di questo tipo che vanno affrontate anche quindi di eterogenità tra una regione e l'altra così pure quindi considerato che comunque questa è una terapia che passerà sempre prima quindi tra le opzioni terapeutiche cioè perché comunque noi man mano che andremo avanti con il tempo con le indagini genetiche cominciamo a riuscire a identificare dei subset dei gruppi di pazienti che sappiamo che hanno quindi una scarsa risposta alle terapie di prima linea ma comunque quindi sicuramente dopo la terapia di prima linea dobbiamo in qualche modo considerare nel paziente che è già subito rifattario già proporlo per una terapia di questo tipo perché abbiamo detto prima che l'allotrapianto lo possiamo riservare a quei pazienti che hanno già avuto un'ottima risposta alla terapia perché l'allotrapianto è come consolidare un risultato ottenuto e così pure anche per l'allotrapianto ma nel paziente che è ricaduto rifattario il problema si pone fin da subito cioè già subito quindi dopo la prima linea di terapia e per quanto riguarda i costi chiaramente il medico deve fare pensare anche il problema dei costi non solo quindi al problema del curare il paziente a identificare bene i pazienti perché il percorso di identificazione non so se vi posso far vedere un'altra slide che in cui c'è ci sono le indicazioni quindi alla terapia non so ho cercato di condividere vi faccio vedere un'altra diapositiva che è quella delle indicazioni alla terapia nel paziente quindi con l'informa via grandi cellule allora le indicazioni sono pazienti che hanno malattia quindi che non sta rispondendo pazienti sintomatici pertanto quindi dove c'è possibilità di ottenere ma le indicazioni AIFA quindi se i criteri di rimborsiabilità vi presento questa diapositiva sono che sono pazienti intanto cioè in età tra i 18 e i 70 anni ma che devono avere una certa aspettativa di vita che non abbiano quindi non siano candidati a un autotrappianto e chiaramente se il paziente ha una malattia rifattaria non può essere candidato perché sappiamo che l'autotrappianto non serve a niente che però non abbiano coinvolgimento al sistema nervoso centrale non abbiano altre malattie associate per cui capite benissimo quindi che anche la selezione deve essere molto accurata perché per il modo da non creare anche delle false illusioni nel paziente altro aspetto se vedete questo adesso per i tecnici che basta avere una quantità di linfociti superiori a 100 linfociti per millimetro cubo quindi nel sangue per poter quindi far partire l'espansione delle carte cioè pertanto anche questi saranno dei criteri un pochino da valutare in futuro ma proprio perché comunque stiamo pensando di una sanità pubblica noi abbiamo anche il doveroso quindi responsabilità di fare attenzione quindi i pazienti che sono veramente candidati a una terapia di questo tipo e soprattutto non perdo tempo quindi in modo da riuscire a favorire gli uni rispetto agli altri ok grazie 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 professore io però dunque sentirei Ruggeri perché è alle prese lui che è alle prese con un DRG che è pari a quello del trapianto quindi ce la fa? ci sta Bartolungeri? e qua la scelta dell'AIFA è stata sostanzialmente di fare una codifica per analogia si dice sostanzialmente hanno scelto un DRG e qui volevo un po' sprecisare di autotrapianto che si differenzia da DRG per allotrapianto DRG per autotrapianto in Italia è 38 40 mila euro l'analogia è perché si infondono le cellule stesse del paziente quindi correttamente e questo è un po' quello che si fa in tutta Europa e anche negli Stati Uniti dove si è scelto un DRG per analogia ripeto con l'autotrapianto e come diceva il direttore Pavesi copre in parte le spese se non ci sono complicanze particolari ma quello che aggiungo io noi abbiamo fatto un grosso lavoro con il nostro servizio di gestione perché non è tanto il singolo effettuazione dell'infusione ma qui si tratta di mettere sotto DRG un percorso che inizia molto prima selezionando i pazienti come diceva Livio Trentin con PET risonanze TAC revisioni istrologiche biopsie valutazioni specialistiche dell'intensivista del cardiologo fino ad arrivare dopo al follow up che prevede tre controlli settimanali per i primi tre mesi per 15 anni quindi qui si tratta di pensare e non possiamo farlo noi lo penserà AIFA a un DRG che copre tutto il percorso di terapia che è un percorso diciamo complesso per la singola spesa ospedaliera diciamo è sufficiente il DRG autotrapianto allogenico allora se è un autotrapianto lo facciano tutti mi spiegano cioè è qui la contraddizione vorrei chiedere anche semenzato perché lo pagano come un autotrapianto in cellule staminali poi però per poterlo fare deve essere accreditato con JC e anche per il terapianto allogenico c'è qualcosa che non funziona sono due cose però differenti Claudio perché nel senso l'accreditamento che richiede JC per allotrapianto è per un discorso legato a un accreditamento di qualità operativa nel senso che il Centro Nazionale di Trapianti ha indicato questa feature che deve avere il centro per un problema di accreditamento di qualità quando viene a essere qualificato il centro da parte di Giliard di Novapio o di altri loro vogliono essere certi che tu tratti le cellule al massimo della qualità operativa perché dopo loro si prendono loro queste cellule affrontando un rischio industriale che la transfezione deve venire bene e quindi di questo diciamo è richiesto viceversa la spesa è un'altra cosa la spesa per infondere il prodotto è stata equiparata a un autotrapianto ma sai Claudio quello che ti dicevo prima all'inizio è su questo principio che tu trasfondi praticamente le stesse cellule del paziente che in altri stati europei la Germania in particolare hanno autorizzato i centri che fanno solo autotrapianti ad eseguire la metodologia delle carte c'è un rimborso in Veneto c'è un rimborso differente in Lombardia e quindi questo invece andrebbe reso più omogeneo ma l'istanza del dottor Ruggeri e l'osservazione è molto pertinente cioè alla fine però il DRG la rimborsabilità deve coprire un percorso che è più ampio rispetto alla cura nel periodo acuto insomma una logica di valore di value patient health care cioè una logica in cui alla fine si bada veramente al risultato complessivo e si porta a casa la guarigione del paziente e il suo follow up quindi io come abbiamo se non ci sono altre richieste altre domande darei la parola aggustonato per una sintesi potremmo rivedere insieme la terza diapositiva e vedere Paolo quali sono i punti affrontati oggi quelli che restano aperti allora intanto io una piccola considerazione per quello che ho ascoltato con molto piacere ancora una volta la concretezza del Veneto viene fuori viene fuori anche con l'esperienza grazie al dottor Pavesi al dottor Ruggeri dell'abitudine al fare e quindi parlarne non basta facciamo qui è un esempio di quello che è stato fatto loro ce ne hanno dato testimonianza così come il professor Semenzato il professor Trentin hanno parlato di necessità cliniche ma soprattutto di un salto culturale ed organizzativo questo io penso visto che si è discusso molto attraverso Luciano Flore e anche il dottor Pavesi di DRG quindi di parti amministrative importantissime fino a un attimo fa ma molto anche di partnership industria istituzione io credo che si apre davvero uno scenario nuovo perché è ora di rompere le barriere che ci sono a questo tipo di dialogo farlo in tutta trasparenza e cercando la partnership attraverso la forza tecnica e la competenza scientifica di tutte le parti la parte clinica e la parte industriale se non si raggiunge questo futuro che sta arrivando anzi riprendo la parola del dottor Ruggero il futuro è già qui e come sottolineava anche Luciano Flore non possiamo restare fermi quindi per la rete io credo che forse non abbiamo parlato molto del PDTA ma si è capito chiaramente vista anche l'operatività abituale della rete veneta che ci si stia già lavorando e poi alla fine come ricorda sempre il mio amico Claudio bisogna pensare che stiamo vivendo e Covid l'ha dimostrato un sistema di sottofinanziamento della sanità per cui bisogna attraverso gli strumenti che saranno disponibili che la politica dovrà utilizzare bisogna pensare a un rifinanziamento ad hoc perché qui altrimenti saremo travolti arriva un'innovazione che è veramente dirompente bisogna essere pronti con i finanziamenti adeguati che consentano un'organizzazione nuova direi che non ho altro da aggiungere bene allora possiamo ringraziare tutti per questo dibattito così ricco da Marco Ruggedi al quale facciamo ancora i complimenti per questo bellissimo risultato raggiunto con i primi due pazienti trattati in Veneto Angelo Andreini Livio Trentin Giampiero Semenzato Giovanni Pavesi Luciano Flora Alessandro Lomeo Silvia Cavallarin e Francesca Venturini ringrazio tutta l'organizzazione di Motore Sanità Clara Nebbiolo svolge sempre un lavoro infaticabile e prezioso ringrazio il direttore scientifico Claudio Zanon e Paolo Buzzonato sempre così puntuale Daniela Gian Pietro Semenzato due parole di chiusura come direttore della rete se sei d'accordo certamente aspettano a lui le conclusioni sì vabbè io direi che molto è già stato detto siamo di fronte a una nuova tecnologia che diciamo così è nell'ambito dell'immunoterapia che negli ultimi vent'anni diciamo così ha avuto passi incerti che però ha trovato in questa tecnologia un'arma sicuramente vincente adesso ne abbiamo parlato poco ma le due patologie oltre al linfoma diffuso a grandi cellule di cui abbiamo parlato c'è anche la leucemia linfoblastica che coinvolge soprattutto i centri pediatri abbiamo visto che è importante l'organizzazione che va abbiamo visto che va anche smithizzata questa organizzazione perché i grossi ospedali l'organizzazione se la sanno fare è come indubbiamente abbiamo avuto uno stop di tre mesi perché il covid ci ha generato questo anzi le linee guida internazionali hanno detto state calmi non andate a infondere pazienti adesso si sta ricominciando e Vicenza l'ha dimostrato sicuramente è importante un rapporto con l'industria però io volevo sono importanti gli aspetti regolatori e politici e anche questo è stato detto di definizione chi deve fare cosa io volevo concludere con i numeri io sono un tipo pratico mi piace guardare i numeri si è parlato poco dei numeri io vi dico questo che in epoca pre-covid era stata fatta un'analisi del fabbisogno di questi pazienti in Italia ed era di circa 600 pazienti in tutta Italia in un anno considerato che il vento è circa 8-10% della popolazione italiana diciamo che la necessità per il vento sarebbe di circa 50 pazienti l'anno qualcuno ha detto che c'è una lista a Vicenza di 25 pazienti che praticamente attualmente è l'unico centro in grado di farlo quindi fate voi i vostri conti e come dice qualcuno ragioniamoci su quindi io credo che su questo punto bisogna bisogna parlarci per quanto riguarda il PDTA non sarà un grosso problema fare il PDTA perché li stiamo affrontando tutti per le principali patologie ematologiche la cosa più importante è selezionare accuratamente il paziente e questo anche a luce di quello che abbiamo detto durante questo seminario abbiamo detto andiamo alle linee sempre più precoci e quindi questo aumenterà il numero di pazienti quel numero di 600 se abbracciamo queste idee andrà sicuramente aumentato e quindi secondo me questa è una cosa che va fatta a livello nazionale e la SIE cioè la società italiana di ematologia si sta già organizzando in questo senso direi che con questo possiamo concludere bravo professore io venerdì ritorno in Veneto con la mia vera patria quindi voglio esternarvi la mia felicità in questo senso torno all'antipiano all'asiago concludiamo con i numeri i numeri per una metodica che i numeri li ha tutti per dare una risposta efficace one shot a dei bisogni di salute drammatici ringraziamo per il supporto incondizionato Gilead che ha reso possibile questo dibattito grazie a tutti arrivederci arrivederci a tutti buon pranzo buon lavoro ciao a tutti ciao arrivederci ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.